Il mercato del Carmine, bagarre sullo sgombero, il comune cambia le serrature ai due negozi ribelli, ma poi nel pomeriggio il Tar stoppa la chiusura dei locali. Il serchio erode la sponda a Mologno, sopralluogo della sindaca di Barga Caterina Campani dopo l'ultima ondata di maltempo. Sulla ex Perini sventola la bandiera finlandese, completato il cambio di proprietà dello stabilimento di Mugnano, partita la gestione del gruppo Valmet. La Lucchese in ripresa, ma manca ancora il colpo del KO, l'analisi della partita contro l'Olbia del tecnico rossonero Giorgio Gorgone. Retrovati a questa nuova edizione del Tg di Lucca e della Valle del Serchio. Prima di partire con i servizi, una notizia purtroppo di un incidente stradale. Un uomo di 87 anni, Elio Rolandi, è morto all'ospedale di Lucca dopo essere stato investito da un furgoncino a Castelnuovo Garfagnana. L'incidente si è verificato nei pressi dell'Istituto Isi Castelnuovo. Sembra che il mezzo abbia travolto l'uomo in retromarcia. In un primo tempo l'anziano era stato portato all'ospedale Santa Croce, poi è stato trasferito a Lucca, dove però purtroppo è deceduto a seguito delle lesioni riportate. Sull'incidente stanno conducendo accertamenti i carabinieri. E adesso andiamo alla vicenda del mercato del Carmine a Lucca. Una giornata ricca di colpi di scena. Ce ne parla in questo servizio Virginia Torriani. Il TAR stoppa lo sgombero delle due attività ancora aperte al mercato del Carmine. Dopo una mattinata di tensioni, il colpo di scena è arrivato nel primo pomeriggio. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso la chiusura del bar del Sole e della macelleria Simonetti. Ma per i funzionari comunali incaricati, la notifica è arrivata troppo tardi. Loro a quest'ora, che sono le 5 e mezza, stanno cambiando le serrature al bar. Alle 5 e mezza. Quindi due ore dopo la notifica della sospensiva del TAR stanno cambiando le serrature al bar. Alla rivendita di carni erano già stati apposti i sigilli. Ma il bar di Ernesto Cagliazzo ha continuato a servire la clientela per tutto il pomeriggio, in attesa della decisione sul ricorso presentato dai propri legali, Anna Cordoni e Angelita Paciscopi, e opponendosi in questo modo a quello che ritiene un atto di forza del Comune. Stanno assolutamente, giocendo con la forza. Questa è proprio una prepotenza a chiudere il bar del Sole. E io non me lo spiego perché. Quando poi questa situazione qui si poteva risolvere tranquillamente, l'abbiamo già detto in altri momenti, in altri seni, si poteva risolvere tranquillamente mesi e mesi fa. Non c'è stata la volontà da parte dell'amministrazione comunale a arrivare a una soluzione pacifica per tutti. E comunque anche stamani è mancato il buon senso da parte dell'amministrazione. Perché al di là della notifica che c'era in Comune venerdì alle 18, che era stato fatto il ricorso al TAR, loro si sono presentati lo stesso stamattina per eseguire lo sgombero. Gliel'abbiamo detto, in tutte le lingue, in tutte le salse, che c'era questa notifica che stavamo aspettando. C'era un problema telematico da Firenze. Gli ho detto inventariamo prima il tutto. Mi sono reso collaborativo dicendo inventariamo il magazzino, inventariamo il bar. Nel frattempo aspettiamo questa sospensiva. Se dovesse arrivare, così. Se abbiamo torto, voi continuate a fare quello che dovete fare. Se abbiamo ragione, si stoppa il tutto. Loro no, loro hanno voluto fare la corsa a chiudere il bar. In sostanza comunque il Comune è andato avanti. In mattinata l'assessore comunale Granucci aveva comunque confermato che dai commercianti erano arrivate richieste economiche irricevibili per il Comune. Sentiamo ancora Virginia Torriani. Il dialogo non è mancato, ma le richieste avanzate dai commercianti erano per noi ingiustificabili. Così l'amministrazione comunale risponde alle accuse dei titolari delle due attività ancora aperte al mercato del Carmine e tira dritto sulla necessità di liberare i locali per dare il via ai lavori di riqualificazione e adeguamento sismico finanziati con i fondi PNRR. Di fronte alla stampa, assessori e funzionari di Palazzo Orsetti hanno ripercorso le tappe dell'intricata vicenda sottolineando l'interlocuzione mantenuta con gli ultimi due esercizi commerciali rimasti. Secondo il Comune, nel corso degli ultimi mesi la 4223, la società concessionaria della riqualificazione del mercato ha presentato alla macelleria Simonetti e al Bar del Sole rispettivamente tre e due proposte. Nessuna di queste sarebbe stata ritenuta adeguata dai commercianti. Da parte dell'amministrazione c'è stato un totale impegno affinché si potesse trovare una soluzione anche per queste due ultime attività che occupavano i locali del mercato del Carmine. Purtroppo sono state fatte delle proposte economiche ingiustificate e molto elevate per cui non siamo riusciti a trovare un accordo e siamo arrivati con dispiacere ma ovviamente non c'erano più i presupposti non ci sono più i presupposti legali che possano permanere le attività nei locali. Voltiamo pagina, torniamo a parlare dell'emergenza maltempo perché è quasi completamente rientrata l'emergenza blackout in provincia di Lucca a causa proprio della pioggia e del vento lo ha comunicato l'Enel rimane da ripristinare l'energia elettrica in alcune decine di abitazioni sparse tra i comuni di Banni di Lucca Minucciano, Careggine, San Romano Garfagnano e Pescaglia senza luce anche alcune utenze del comune di Pescia. A proposito comunque dell'ondata di maltempo c'è stato un sopralluogo della sindaca di Barga Caterina Campani a Mologno dove il serchio continua a mangiarsi fette di sponda. La piena di domenica mattina non ha causato ulteriori problemi di esondazione del serchio a Mologno nel comune di Barga ma è chiaro che la problematica che è emersa nei giorni scorsi con l'allagamento di terreni di un'azienda è di prioritaria importanza. Il fiume alcuni decenni fa scorreva oltre quella vegetazione ora è incanalato sul versante a Barghigiano ed in questi anni ha eroso centinaia di metri di terreno ora però l'erosione che pochi giorni fa ha portato l'acqua fin dietro la scogliera su cui poggia il ponte mette a rischio proprio la tenuta del terrapieno e della strada e del ponte. Per la sindaca Caterina Campani oggi sul posto per un nuovo sopralluogo una situazione da risolvere velocemente. Problema da risolvere subito sono anni che denunciamo questa situazione nei prossimi giorni faremo un sopralluogo una riunione operativa con tutti gli enti preposti che abbiamo già contattato perché qua c'è un problema non soltanto per i terreni ma a questo punto è anche a rischio il ponte un ponte che è un'infrastruttura importantissima di collegamento tra il comune di Barga e la Fondovalle e il comune di Gallicano. Quindi in questo momento tutte le attenzioni sono proprio su quest'area perché non si può più rimandare nessun tipo di azione. A proposito di maltempo nel territorio barghigiano la sindaca ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle strade di San Bernardino e di Fornioni a causa di alcune frane. I problemi al soffitto del Teatro del Giglio di Lucca immersi nel corso dell'ondata di maltempo ma non sarebbero comunque legati alla pioggia e al vento di questi giorni sono comunque in corso degli accertamenti. Tecnici comunali a lavoro per verificare la stabilità del soffitto affrescato del Teatro del Giglio. Le indagini sono state avviate dopo il distacco di un pezzo d'intonaco avvenuto nella mattinata di martedì 31 ottobre con l'installazione a scopo precauzionale di un telone protettivo. Secondo le verifiche sinora condotte il cedimento non sarebbe stato causato da infiltrazioni legate al maltempo ma sarebbe collegato all'antichità dell'intonaco stesso. I funzionari del settore lavori pubblici hanno adesso in programma di condurre ulteriori accertamenti nel sottotetto per decidere come procedere agli interventi di consolidamento. Chiaramente ci siamo mossi subito e prevederemo un intervento l'intervento che è da fare poi ci verrà chiarito dai nostri tecnici se sarà bisogno di fare un intervento mirato di consolidamento della contrasoffittatura e valuteremo quello che ci diranno i nostri tecnici ma siamo pronti a fare gli interventi o a mettere in sicurezza con i teli altre parti che se verranno voglio dire messi in che andranno messi in sicurezza. Cambio della guardia in questura a Lucca il prossimo 20 novembre dopo un anno e mezzo di permanenza Dario Sallustio saluterà la nostra provincia per assumere l'incarico di questore di Vicenza al suo posto in Viale Cavour arriverà da Benevento il nuovo questore Edgardo Giobbi Giobbi è stato investigatore nel servizio centrale operativo e come vicequestore a Bergamo ha partecipato alle indagini per il delitto di Iara Gambirasio. Torniamo a parlare anche dei comics soddisfazione espressa dalle associazioni di categoria dei commercianti sull'edizione 2023 che si è chiusa da poche ore sono intervenuti la prefettura e il sindaco di Lucca Mario Pardini. È stata l'edizione dei comics più complicata degli ultimi anni anche più del 2021 quando l'organizzazione dovette gestire le regole di difesa dalla pandemia eppure nonostante il maltempo e l'allerta terrorismo la chermesse lucchese ha totalizzato 315 mila biglietti venduti il secondo miglior risultato di sempre segno di un gradimento che evidentemente non accenna a diminuire. Il giorno dopo la chiusura dell'edizione 2023 la prefettura ha voluto ringraziare i cittadini lucchesi e tutti gli enti che hanno partecipato alla gestione dell'evento. Sul fronte della sicurezza sono stati quasi 300 gli agenti tra polizia, carabinieri e municipale con il supporto della Guardia di Finanza che quotidianamente hanno controllato che tutto filasse liscio e per prevenire guai la questura ha emesso ben 40 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti capaci di turbare la sicurezza della manifestazione. Dal punto di vista logistico la città ha retto in linea con gli altri anni anche se qualcosa da migliorare c'è sempre. A bocce ferme come si dice valuteremo l'impatto che c'è stato di alcune scelte fatte alcune che possono essere diciamo così anche ridimensionate magari l'utilizzo di alcune piazze però nell'insieme la macchina ha retto ha retto bene e su questo io ringrazio tutti i volontari tutte le forze dell'ordine la protezione civile la polizia municipale e le partecipate del comune pensiamo che la città con una pressione di questo tipo però ogni mattina era pronta a ricevere il pubblico. Completato il passaggio di proprietà alla ex Perini di Mugnano. Adesso è completo e definitivo il cambio di proprietà alla ex Perini di Mugnano l'antitrust ha dato il via libera all'operazione e venerdì scorso c'è stato il passaggio di consegne allo stabilimento che produce macchine per cartiera con il gruppo Valmet che ha preso possesso dell'attività produttiva dal gruppo uscente la Corber ed anche all'esterno dell'azienda ora al posto di quelle tedesche sventolano le bandiere finlandesi. Per il momento informano i sindacati non sono stati annunciati cambiamenti dirigenziali ma le intenzioni della nuova proprietà si vedranno entro la fine dell'anno. Da qui a qualche settimana comunque si spera di aprire un confronto a tutto campo con il nuovo gruppo ha spiegato Nicola Riva della FIOMCGL. La ex Perini di Mugnano è una delle maggiori aziende del polo cartario lucchese e conta circa 430 dipendenti. La scorsa primavera l'allora gruppo proprietario la Corber annunciò la necessità di 70 esuberi. Ad oggi con gli incentivi hanno lasciato l'azienda circa 55 lavoratori. Attualmente è stata indetta la cassa integrazione che riguarda trasversalmente tutti i lavoratori e che viene sottoposta a verifica ogni due settimane. prima di chiudere l'annuncio del terzo artista del cartellone 2024 del Luca Summer Festival dopo Rod Stewart ed Ed Sheeran è la volta del primo nome italiano si tratta del cantautore Calcutta che si esibirà l'11 luglio sul palco di Piazza Napoleone la prevendita inizierà giovedì 9 novembre. È tutto quindi per questa parte del TG dedicata alla cronaca adesso la pubblicità e torniamo subito dopo con lo sport.